A Gaeta i cultori delle locali glorie nutrono una vera venerazione per Giovanni Caboto e il perché ve lo spiegheremo tra poco. Giovanni Caboto fu uno degli spiriti più inquieti e audaci dell'epoca delle grandi scoperte. A bordo di fragilissimi legni affrontò le immensità oceaniche spingendosi fino al Nord America che fu il primo a descrivere compiutamente. Nacque, qui vi volevamo, a Gaeta addirittura un convegno è stato organizzato per rivendicare energicamente la gloria di aver dato i Natali al grande navigatore respingendo con sdegno l'insinuazione che Caboto sia nato a Genova. E allora Gaeta o Zena? Lei cosa ne pensa? Ma che è pazziato? Ma Caboto è da Gaeta sapete? Ma ringrazio. E lei? Beh, mio nome è intrigoso e affari vostri, mi sono da Venezia.